Musica Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio che per 89 Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse E quest'oggi per la prima volta ci trasformeremo, molto probabilmente, in Super Saiyan Voglio vedere se mi diventano i capelli dorati, sono molto curioso La bergamena non cambia, forse demigra, si è arresa Attenzione Questo qua mi ha rotto quasi coglioni Eh, nessuno è potente quanto Boo Ok, vabbè sto assaltando perché tanto ride e basta, quindi non è che... Vabbè Cosa? Cosa? Ok Si tratta di un'era pericolosa abbastanza... Quella era l'era in cui... Bills, il dio della distruzione è andato sulla Terra Ok Particolare, dovrebbe essere molto particolare Per fortuna che ci stiamo andando belli preparati, sinceramente Ci stiamo andando belli preparati perché non vedo ora di diventare Super Saiyan Era 778 Troppo silenzio Ok Questa c'ha... Ma che figata... Mazzate, quello sembra il dio... Ok E Yoto gioca a Dark Soul Che bella questa era, tutta così pacifica Eeeh Beerus Your prediction was predictably wrong Io, cioè, tanti personaggi non li... Non li conosco Too bad But, of course, it is no surprise Uh, guarda che a te si vedono i capelli, vegeta What does that mean? My idiotic song and dance Ah, forse ho capito Seems to have helped calm down Beerus' temper Ok All we have to do now Is simply wait for him to leave Eeeh, vabbè Guarda a vecchietà che si vedono Oh, Lord Beerus Have you had This dessert they call pudding? Eeeh Pudding, you say? Che succede? You there Give me one pudding cup Nooo All pudding for Boo! Give it! Nooo Give it! Nooo Give it, you fool! Give him the pudding! Madone Addirittura il Super Saiyan Too close Ma che cosa? Here, Lord Beerus Ah, thank you Mi sono perso qualcosa, qualcuno mi spieghi Che cosa? Che cosa? Che cosa cazzo sto vedendo? Ma... Ma cosa? Che cosa sto vedendo? Che cosa sto vedendo? Oddio Ahia 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 Dio della distruzione Dio della distruzione Bills Ma... Non è cattiva Ma per un butino Veramente? Dai Ma per un butino Dai ma Era così tanto bella Io questo purtroppo non lo conosco Mi dovrò informare Mi dovrò informare su chi è questo personaggio Madonna ma quanta vita ha questo cacchione Ok Mo' se trasformamo eh Senti Addio del bulino Mamma mia Super Saiyan Madonna Siamo Super Saiyan per davvero E siamo anche pionti Pionti Pelli Sex Mezzi morti Ok Non c'è sto capigna Se magari mi fa bene a questo Oh è fortissimo È fortissimo Guarda questo separa Mamma Jimbo Ancora sta per terra Vedi Perché no perché Guarda non gli faccio niente Dai E muori Porca miseria Ahia Dai è troppo forte Non per non parlare di noi eh Oh Ma qua tutti si sono trasformati Ma che è davvero Ok Ah ah Ahia Ma vaffanculo Ok Dai con calma Con calma Guarda se è scemo No regà dai Eh Go Vegeta Dammi Ma che stai a dire Ma che ca Quale danno incredibile Ma che cosa stai dicendo Guarda si parla tutto Meno male che quando comunque ti pari Un pochino Mamma mia Senti a bello Ma vaffanculo No quanta vita Quanta vita Colpire Bulma Non ho capito Non ho capito Chi ha colpito Bulma Ma Ma come Ahia Aspetta E questo sta a fa Ah Cazzo Ragazzi Non ci sto Capendo Niente Non riesco a colpirlo Non riesco a colpirlo Guardate ragazzi Aspetta Sapete che mi è ritornato un mento adesso Oltre che ci sto prendendo Eh si No ragazzi Cioè ma stiamo scherzando Stiamo scherzando Veramente Cioè Madonna Boh che succede Madonna Ma che livello è Ma che questo è l'aura del Kaioken Ma è bellissimo Ma è bellissimo Eh Qualcosa non va Ma vaffanculo Facci me Vai Ti paro Aia Oh super saian Un super saian god No ma Mi son perso Mi son perso tantissimo qualcosa Perché Eh vaffanculo Ho pure perso C'è te perde Vai io ce posso provare Ma Oh ma hai rotto Quasi Eh Vaffanculo va Oh Ce l'ho fatta Non me l'ha fatta Togli tutto Ce l'ho fatta Ero impegnatissimo Ma ero veramente impegnato Mortacci Insomma Per un buttino Tu stai fuori Per un fottuto buttino Che poi boom Mortacci Tu Demigra Ferma Bills Ok Tipo lui è Un saian dio Qualcosa Genere Ok Non ho ben capito Tipo se lui lo sa Eh Eh Infatti quello stavo Quello stavo intendendo io Eh si che sicuro Demigra ci si entra qualcosa Anche perché tanto Non ne faccio niente Quindi Madonna Goku T'ha mandato Sue stelle T'ha mandato Mena Mena Goku Goku Devi mena Portarci Almeno te che sei Trasformato Io ancora non ci sono Trasformato Maronna mia Ok Mi metto un difesa Ti pare che male lanciava a me Grazie Ah Aia Aia Ma penso di Trusso che non sei bravo Goku Madonna Non gliela fa Non gliela fa Vai Oh L'ha preso un faccia Ah stronzo Ma che te pensi Che è solo tu Via qua va Guarda che te faccio un faccia E ti pareva Oh Almeno l'ho preso Ok Mamma mia Te la rifaccio E' vero perché mi sembra Che me l'avevate detto Che potevo Che potevo Ahia Ma dando una botta Che quando ero Super Saiyan Potevo Falle tutte le volte Che volevo le final Ah E te pare da dietro Che poi mi massacra Mi sta massacrando Ok Meno male Oh Mi hai rotto proprio Ma hai rotto tre quarti De cacchio Mortacci Ah curate Parate Parate Ok Vaffanculo Mamma da Non è giusto Ah potevo diventare Super Saiyan Porco Boom Aia Me paro Aia 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 Oh Mortacci Super Super Cazzo Aia Managgia Me vuole romper culo Regà Questo me lo rompe Ok che buco Che buco Ok E' fortissimo Madonna Non sto giochendo neanche benissimo Io eh Però forco dè E' fortissimo Per un cazzo Un cazzo di budino Poi Attenzione qui Mi sa che è proprio Figata C'è un po' Certo Ok Ok Contento Aia Aia Porca troia Porca troia Ok Ok Aia Porca troia Che devo fare Io Che devo fare io Sì ma su cosa regni Imbecille E invece Che figata Che figata Che figata Ooooooh Che figo Ma infatti mi pareva strano All'edicon builds La fine di Demigra Ma che figata di Di pezzo è Un colpo inaspettato Bello Se quello prima me stava romper culo a me E' il culo a stella strisce porco due Eh però fra tutte e due Aia mi ha dato un pizzone l'avete visto tutti Quindi se lo meno è colpa sua Mamma mia Dai aia questo ce le prende E quante ce ne può prendere Questo qua Dove stai andando Sulla terra per caso Mamma mia quante pizze ti posso dare Ok no non l'ho preso Super Saiyan non lo posso Non posso diventarci Vabbè lo manchi volevi Ma chi volevi Mamma mia che vendetta Daie Daie Aia bello T'ho preso tutto T'ho preso con tutto T'ho preso Che era una bella camecazzo Ha fatta quella potente No eh Oh Aia c'è mena C'è mena Ah bello Ma è rotto Quasi tre quarti De De Semulino Mena 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 Sto senza niente Me paro Aia 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 Mena col bastone Ma che sei scemo Aia aia Mena un'altra T'ha col bastone Mortocci quanto fai male Dai 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 non se veda Non se veda Aia aia Mamma mia Quante Quante botte Te devo da Dai Ah bello Mamma mia Non l'ho preso Sì l'ho preso Non l'ho preso Non l'ho preso mai Ma va bene così Perché adesso Ti faccio Ok Preso tipo malissimo Mamma mia Questo gli fa male Questo gli fa male Penso a questo Ancora peggio Senti che musica Fichissima Quando si stanca Se stanca Non è che Gli posso far mica niente Ah bello Ah bello Te scatafascio Le ossa Aia Mena Ok Madonna Quale pugno Gli abbiamo tirato Quale missione compiuta Ma siamo tutti Cor dubbio Siamo tutti Cor dubbio Tra l'altro Signori Vi ricordo Che abbiamo Tantissime Missioni Secondarie Da fare E le farò Su Twitch Vi lascio il link In descrizione Se mi ricordo Se no su Twitch Cercate Ciccio Gamer 89 E via Siamo a livello 37 E secondo me Adesso c'è una bella Cazzin Probabilmente Eh si Che cosa ho portato Ok 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 Hanno parlato Hanno detto Praticamente Il dio della distruzione Ci darà una mano E dobbiamo combattere Contro Di loro Signori Che dire L'appuntamento di oggi Può finire qua Nel prossimo episodio Ci potenzieremo Faremo Tante cose belle Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel pollicione In su Di commentare Di condividere Al prossimo appuntamento Con il vostro Twitch Per 89 E ricordate Mai far cadere un budino Grazie a tutti